angelo furia ci siamo conosciuti l'anno scorso per la presentazione del trofeo fast enduras 2020 com'è andata che dire realizzarsi di un sogno l'abbiamo vissuto ce lo siamo goduti bellissimo un'emozione unica essere piloti per la fast è stata probabilmente una delle esperienze più formative più emozionanti che abbia mai vissuto quindi è un'esperienza che vorrei rifare probabilmente anzi sicuramente si rifarà quest'anno